Questa è una delle iniziative di raccolta fondi che svolgiamo nel corso dell'anno normalmente. Certo, c'è un particolare riguardo alla popolazione ucraina, al conflitto che sta avvenendo. Noi siamo Croce Rossa, quindi è evidente che siamo vicini alla popolazione che soffre. Non prendiamo schieramenti in forza del rispetto forte del nostro principio di neutralità che fa sì che il volontario di Croce Rossa si mette al servizio di chi ha bisogno di aiuto indipendentemente da il colore della pelle, l'appartenenza a una nazione, eccetera. Tutti i cittadini che ci rivolgono aiuto, noi cerchiamo di dare risposte positive. Questa è una raccolta fondi che in parte va all'Ucraina. Ci siamo raccomandati nel corso di questo mese purtroppo di guerra. Noi abbiamo soprattutto provveduto alla raccolta di risorse economiche che poi vengono direttamente dirottate al Comitato Internazionale della Croce Rossa attraverso la nostra sede romana perché solo così si riesce ad essere vicini alla popolazione.